Sì, finalmente è arrivata la vittoria, dopo tante bellissime prestazioni, sono arrivati finalmente quei punti che ci servivano e siamo molto contenti. Siamo un grande gruppo, eccelleniamo tutti veramente molto bene e cerchiamo di dare il massimo, infatti ogni volta che qualcuno entra fa benissimo. Questa è la dimostrazione che veramente in settimana andiamo veramente forte e ci teniamo pronti. Sì, è una squadra che sta facendo molto bene e noi però giochiamo in casa, quindi cercheremo di ottenere il massimo e lo faremo. Per fortuna ci sono loro che veramente ci aiutano tanto durante le partite. Sta procedendo bene, piano piano cerco di imparare da tutto e da tutti, speriamo di arrivare al massimo prima possibile. Grazie. 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 Grazie.